No, io mi faccio raccontare da me stesso che abbiamo messo in moto una macchina che funziona, ma funziona producendo la propria crisi e ci è toccato vivere nel momento in cui la crisi non ha più modo di essere, non dico frenata, ma nominata. Tutto quello che noi stiamo cercando di fare è di nominare la crisi, di far presente che esiste una crisi che è strutturale, che non è una crisi raccontabile con leggerezza, è strutturale. L'unico modo che avevamo trovato per tenerla sotto controllo era la politica e adesso la politica ha tradito, si è adeguata ai poteri dominanti. Si rifiuta di fare il proprio lavoro, che è il lavoro del catechon, è il lavoro del dar forma, trattendo l'informe. Invece adesso la politica produce informità attraverso la conformità. Uno dei problemi più interessanti del giorno d'oggi è il potere del politicamente corretto, che è il potere del conformismo. Perché c'è tanto bisogno di conformismo? Perché siamo un regime, ma nemmeno per sogno, per evitare il regime, per evitare qualunque forma politica. Perché ci sia semplicemente qualcuno, sempre, che possa dire tu peccatore pentiti. E non ci sia mai un momento in cui si può dire, si possa dire, facciamo qualche cosa insieme. Se ci pensate, tutta la politica, tutta la politica oggi, non voglio parlare di politica spicciola, ma tutta la politica oggi consiste nello scambio fra l'azione e l'emozione. L'azione non la si fa, tanto c'è il pilota automatico. L'emozione può essere un'emozione di un certo segno o di un altro segno. Un'emozione di destra e un'emozione di sinistra. Ma entrambe le forze politiche, quelle di destra e quelle di sinistra, scambiano la propria, il proprio dovere di agire, con la propria capacità, che non attuano, che non prendono sul serio, che riconoscono impossibile da esercitare, lo scambiano con il diritto, quando vinci le elezioni, di essere il quasi monopolista nella produzione di emozioni. Oggi il politicamente corretto ci impone un certo tipo di emozioni, domani ce ne imporrà un altro. Ma tanto i vettori universali sfondativi continueranno a procedere esattamente come al solito, con le loro crisi interne, cioè non è che procedono linearmente, procedono con le loro crisi, che vengono dequalificate a livello di crisi naturali, come se fosse indispensabile che ogni tanto il capitalismo bruci una buona quantità di ricchezza, e la politica mai che faccia ciò che sta scritto nella logica profonda della politica, cioè produrre un mondo di cui i soggetti, tutti, siano consapevoli e signori. La posta in gioco è poi questa, non mi faccio dire dagli altri ciò che sono e perché sono arrivato fino a qui, perché continuo a coltivare l'idea, e se coltivo l'idea vuol dire che o che sono pazzo, o che questa idea è un'idea condivisa, che ho letto da qualche parte, che ha funzionato, che fa parte del lievito intellettuale dell'Occidente, continuo a coltivare l'idea che sia giusto, possibile, lecito, che gli uomini e le donne abitino un mondo di cui sono signori, cioè un mondo che capiscono, e non un mondo in cui sono agiti da potenze per loro oscure. Perché se volevo essere agito da potenze oscure, rimanevo dentro la foresta. E allora il grande imperativo moderno, exeundum estatu nature, non era mio. Siamo usciti, abbiamo pagato un prezzo per essere signori, che non vuol dire essere padroni di schiavi, vuol dire essere uomini e donne libere. Guarda un po'. E libere vuol dire che sanno all'ingrosso che cosa succede nel mondo che essi abitano, non che se lo vedono piovere sulla testa, se lo sentono gravare addosso senza mai sapere, perché magari inventandosi a questo punto dietrologie complottino, perché non sanno spiegarsi. Così vi ho detto a che cosa serve la filosofia per la mia modestissima persona. Qual è l'investimento emotivo di liberazione che c'è nel pensiero filosofico? Non mi faccio dire dagli altri ciò che io sono e che cosa faccio nel mondo. e vorrei che lo facessero tutti, di non farselo dire dagli altri.